300 euro per la registrazione di un atto di successione. È quanto chiedeva un impiegato delle agenzie delle entrate di Cosenza, addetto al servizio di assistenza che è stato tratto in arresto e gli è stata applicata la misura cautelare interdittiva. Il tutto è avvenuto grazie alla denuncia di un cittadino alla Guardia di Finanza. Una procedura che l'impiegato cercava di far passare come prassi per ottenere questi documenti, sostenendo addirittura che rivolgendosi a un professionista il costo sarebbe stato superiore. I militari dopo la denuncia hanno cominciato ad avviare una serie di indagini, servizi di osservazione ed appostamento, intercettazioni ambientali finalizzate a verificare e documentare la natura della richiesta e le modalità del pagamento del denaro. Identificate le banconote destinate all'indebito pagamento, i militari hanno anche filmato l'incontro tra il pubblico funzionario del cittadino con la consegna di una somma di denaro. Una volta ricevuta la somma richiesta, il pubblico funzionario consegnava l'attestazione di avvenuta registrazione dell'atto, ma contestualmente i finanzieri intervenivano e traevano in arresto il pubblico ufficiale e sequestravano il denaro consegnato restituendolo al legittimo proprietario.